1st down! Momentamente, momentamente, dai! Ehi ragazzi guardate, che c'è? È entrato un nuovo giocatore, con il numero 63, entra a punto! È un colpo di scena che lascia disorientati i Rangers. Il fuoriclasse più amato e acclamato dalle folle americane, forse anche il più discusso per la nota faccenda del suo misterioso ritiro, ora calca di nuovo il terreno di gioco e fredde posto tra i suoi compagni. Non avevi gelato di non giocare più? Ma questa non è una partita, amico. Chi è? Una granata, signor colonnello, una granata colpita la postazione numero 12, che in immediato è convallida, ordini, passa e chiude! E chiuda, chiuso, ma aspettiamo che te passa. Qui invece può usare la prima di trovare le copie! Voi! 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 Vogliamo controllare il numero dei giocatori in campo. No! Incredibile! Questa non era una partita, ma una vera girandola di colpi di scena. Dopo l'ingresso di Bulldozer alla fine degli ospiti, vediamo che anche i Rangers hanno in campo con il numero 65 e il loro allenatore Camper che prende posto proprio di fronte a Bulldozer. Tanto non lo segnerete mai quel punto, Bulldozer. E allora preparati, perché adesso segno. Pronti? Pronti! Pronti! ... Sì, vabbè! Sì, sì, sì! Un giorno, un giorno, un giorno, un giorno! Caro amico, sa qual'è il mio peggior difetto? Fidarmi di un imbecille come il sergente Kempfer. Appunto, come le dicevo.